Almeno che non scelgono i tempi. Ma no, dipende se non scelgono i tempi. Eppure secondo me gli danno a scannate. Eh, non ce la fai. Sì, perché secondo me non fai niente nell'altro. No, riesci a fare due cagate. Eh, infatti, una via di mezzo. No, riesci a fare due.